Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo tornati su Minecraft, con me c'è Marco Stoxx dei Playerspace Ciao a tutti, benvenuti su Playerspace, sono Marco Stoxx e ovviamente siamo in video co-registrato, si può dire Sì, con la doppia visuale e con la partecipazione anche di Griffer, un altro membro di Playerspace, siamo tutti membro di Playerspace E siamo appunto sui canali, potete vedere anche il video, lo stesso video potete trovare anche sul canale di Peppa, di Eldrek Channel E di Marco, vabbè ovvio Allora, stiamo facendo le Sky Wars Non so cosa fare, no forse non devo andare qua, ah no, play qua Devo andare su, su, oddio, quelle devo fare Allora, ci sono le liste, siete entrati voi? Sì, sì Oh ok, tu Griffer sei entrato? Griffer Griffer è morto Perché non parla? No, c'era il kit da, c'era il kit da selezionare Allora, praticamente io so, si può dire che l'ho fatto poche volte Che ci sono ceste dove ti danno roba Ma siamo nella stessa partita vero? Eh bu, non lo so Andiamo Marco Sì A posto Ciao No, io mi trovo più un cazzo, quello ragazzi, un cavolo di cavolo Ma se io scavo E' un po' di incantagione E' un po' di incantagioni Ok, se io scavo Cioè, ma io avevo il microfono mutato Ah, ecco, perché io sentivo, mi sentivo un bel 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 oltre ma si è scoperto che c'è cosa ciao ragazzi ciao il risultato che sei in te e se scavi trovi diamanti vero ragazzo il nabbo da compagnia invece io non so giocare a minecraft io neanche l'ho mai fatto questa roba ciao marco almeno si gioca a pomar ea ok no 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 perchè ma perchè mi amassi non siamo contro non siamo contro scuse si si è una merda ma ma lui nasce non ho capito no ma che ne so io ragazzi che cazzo vuole tra me si lamenta pure ma ci si cade porca miseria scava sotto i piedi si perchè non ti scavi tu sotto i piedi e io sono già morto aspetta vediamo se c'è qualche diamante odio no no non ce n'è peppe che palle usate ragazzi è vero a bruno si si peppe c'è 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 ah che c'è 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 spostati un po sinistra no spacca dove c'è il ghiaccio eccola sono morto scava scava che chi ha ammazzato ma che continuo ad andare sempre sempre lì lì ecco ragazzi ma ce n'è uno solo per no un solo pezzo che ci faccio e poi in un'altra risolvere prendi anche l'altro vai quanti ne siamo rimasti game over ho vinto ma che cazzo ho vinto che figata come vincere facile va bene facciamo un'altra dai ok siamo in un altro sky wars ma siamo tutti vicini no boh io faccio come prima o devo prendere il kit ma questo che viene qua perché sto laggando merda no sono morto no vabbè seguiamo seguiamo griffer va intanto marco c'è la sua visuale sì sì questi stanno anzando no ma ho messo panela dove griffer qua no qua no sono morto ok griffer non c'è più vabbè ora vedete la visuale di marco quindi si 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 andiamo assolutamente a trovare io non sento escono un interrovo di blocchi ma scusa forse mi faccio tp marco sto messo se no no qui dovrei raviare il gioco Eccolo, l'ho trovato Guarda che basta fare il tasto destro sulla bussola Vero? Sì, ti scontate le teste Ah, siete in quattro Marco, c'è un pezzo di ferro sotto l'interno? No, scarsa No Sì, è vero, comunque, quello che sono io c'è Le ceste le hai aperte, no? Sì, ho già aperto due Oh, siete in due Due, l'altro Vediamo, è al centro Con la spada incianata E mi sa che non ti ha visto Ha la spada con FireRusper Questo qua, in teoria Madò, questo è fortissimo No Buona fortuna È andato al centro prima di noi Attento, attento che ti butta giù Vabbè, sei morto Ma che mi avvisavate? Ma porca puttana, non lo sapevo Ha vinto Ma come non c'era il secondo? Perché? Si fatto Arancione o verde? Arancione Arancione Che cosa si fa arancione? Come? Eh, tasto destro Ma cazzo, parlate prima Che cazzo lanciare? Che cos'è? Dobbiamo lanciare le palle? Le palle di neve, sì A cazzo? E no, devi uscire i nemici In teoria Ma che non posso correre? Io ero morto Ah, no Ah, ma si rinasce Cos'è succede? Si rinasce, sì o no? Mamma, ne sappiamo tante Ma si rinasce in posti diversi Ah Ma che cazzo è la società? Io non capisco un cazzo Ti avendo palle o volare ovunque Oh, ma è stato uno? Curo Quello lancia diamanti Ma perché? Dai che non posso correre No Ah, non si prende Che cazzo è? No, ne ho finito Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Senti uno urlava Ma hanno chiamato la nuclear Senti uno di più urlava Ah, io non sto uccidendo nessuno Cos'è la nuclear puoi? Non lo so Ma com'è che muoio se a caso Se poi lanciò un paio di me a cazzo Ti prendono Guarda Poi da che distanza assurdo L'ho ucciso mi sa Si l'ho ucciso uno Ma sono troppo forte Ma io sotto Un altro Stiamo vincendo ragazzi mi sa forse Eh proprio No ma quello vuol dire che stiamo facendo bene Oh che cazzo è successo Ma che cazzo Ma come si fa ma come Non lo so Di nuovo Ma ma che bordello Che cazzo la bambina che urla Ma che cazzo è Era con la Era con la pepita d'oro Facevi tipo 25 kg Facevi le robe Perché Se fincava il tasto destro sulla pepita d'oro Poi ti mi pare Che succede Eh gg a caso Vabbè anche io Gg Più 5 karma Ma che cazzo Va bene Ok va bene Vabbè Perché siamo Dovete entrare Prendete il grano Così avete cibo E non dovete Scopparvi con i compagni Ma sto laggando Oh come lagga Guarda La cosa più importante È raffottere il legno Perché ce ne fa Ma in questa mappa ce n'è tanto No ma sto laggando troppo Oh Ma anche voi laggate No Guarda Mi serve Cioè sei tu che laggi Buona me l'adoro La bottina in cartagione La bottina in cartagione Oh Ok non più Devi Prendetevi il legno Fatevi un piccone il legno Posso di corrompere Fatevi un piccone il legno E poi scendete giù Vabbè Tanto le case sono fatte in legno Quindi Ah Le case Si possono distruggere anche le case Oh penso di sì No Certo L'ho fatto E allora Una Una Eppure un bottone a caso E3 Ok Io c'ho già il piccolo in piedi Dove vi regalo tutto il legno A posto Il buio Il tempo dove si vede Ah da 3 Eh 3 15 minuti erano Ok E vabbè Bisogna solo scendere O cercare la caverna E andare Ma non c'è ne ceste Nelle case E qua Sì Io ho preso prima C'era una cesta Ci sono alcune ceste Ma non c'è tanta roba Ho preso una mela d'oro Vabbè dai Un quarto dare per esplorare tutto Su No guarda che Se non ti fai fulsarro Può muori subito Eh appunto Allora scendo subito Eh problema Che ci dovrebbe essere In entrata in una caverna A qualche parte Ma sotto c'è la bedrock Oppure E' un sciupo E' un sciupo E' un sciupo di Bedro Cailati C'è sotto è Bedro Cailati E basta Ma va bene No l'importante è che non muoio Non muoio a caso Oh che c'è qua Non muoio Non muoio Torce di redstone Redstone c'è Ma perché tu lo che cazzo sei Siamo in un punto sotto Ma hai trovato una caverna? Sì Con delle redstone sopra Dove sei? Ragazzi che sono No No Dove sei tu stai? 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 Da parte da casa Ciao Oh guarda c'è oro Oh guarda c'è oro qua Avevamo oro Ok buona Resta va Scendi 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 Eh prendo il carbone Prendi il carbone Ma Marco ti sfatto le attrazze? No No Eh bravo Sono no No Vabbè non hai un piccone in legno tu Sì legno sì Allora inizia a scavare Allora Inizia a scavare Inizia a scavare Inizia a scavare Inizia a scavare A casa Qua c'è una testa di Grieffer Vabbè Oh ferro sì Easy più un piccone in ferro che ho trovato nella cesta Vieni qua aiutami Grieffer Eh no ora devo cuocerlo eh Oh se vuoi io ce l'hai ferro Io già faccio Io già faccio Ho trovato Torns Ho trovato Torns Cazzi io prendo un bel quadro di cobblestone e faccio tipo un pillar in alto da voi ragazzi No qui l'ho che un contritipisto Te la hai da una fornace e io 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 sto facendo io so prendo il cobblestone per fare un pillare vado su a cuocere tutto Che sennò i compagni di quanta di pure è la mia Le mie cose Dammi Cioè la fornace ragazzi Cosa? Da qua fornace ragazzi Vabbè si cazzi non la deve mettere tanto non metterla a casa perché la gente te viene a rubare Sì appunto Ma aspetta io devo continuare a scavare per forza Oh altro ferro altro ferro Uhhh ne ho trovato un sacco ne ho trovato un sacco Io ne ho 57 raga Io ne ho 57 raga Raga io ne ho 57 se trovate qualcos'altro bene Quante ne servono? Quante ne servono? Quante ne servono? Eeeh 100 Eh si 100 78 ha detto Mi ricordo si 78 totale 78 io ne ho 10 78 io ne ho 57 Io ne ho 57 Quindi 67 Io stavo per morire Per compagni c'è un problema Buono Ma che cazzo non c'è stato io ho trovato Così Ma che cazzo è? Che cazzo è? E così dai Rai ti apreggi questo Questo per me Ma che cazzo è tristi Eeeh E se possiamo già salire Marco Siamo già salire noi volando? Eh mi sa di sì vediamo Gli è l'ultimese Perché è stato eliminato? Perché sono morti tutti Che deficienti Ehi si può morire nella lava Marco No Ma che deficienti C'è chi ce ne vuole però non so da dove si esce e scava scava verso l'alto fai primo ovvero quasi 20 pezzi non manca uno però io mi mancano solo le scarpe 20 pezzi ma mi mancano solo le scarpe sono pull ferro il resto ve lo faccio per voi 21 pezzi un carbone ragazzi boi ne sto facendo 7 14 21 per amare 14 16 quanto fa non lo so da 50 14 16 30 14 di seggio 30 e vio nevoca maria ottima dai che stai scusa io sto in aria non mi vedi non vedi l'aria con le fornaci o marco guarda sopra vai un po' più vai un po' più api alla tua destra mi vedi ma di sopra minchia con cazzo il sito è ho scavato un cuso vabbè vi faccio io faccio una chest plate e dei pantaloni salvo filip no 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 scendo io dopo o sono salita anche uno dei sali anche tu marco sale che tu sei ferro no no ferro io cazzo peppe servito e 21 ne ho il carbone guarda sei tu sopra sei su tu sopra la casa no neanche io e allora è un altro pezzo di marco io c'ho un armatura in ferro nell'inventario quindi a una di voi due va e l'altro e non c'ho abbastanza fermo non serve altro perché hai quattro abbiamo quattro minuti peppe 4 adoro vabbè lo prendo lo prendo non si sa mai e cosa ti serve e non si sa mai nessuno riusciamo a completare le armature no ma si perde serve per connessi rubato scusa tu quanti pezzi di ferro ai ventuno 21 e 3 24 che culo non vi vedo non vi vedo tu su su sali su mi vedi oh gira qui gira qui gira qui ragazzi io penso a tineti torna indietro torna indietro guarda ok ok ragazzi bravo bravo marco salito no marco marco migliose 6 giù batte intanto la spada che non avevo già fatti le spade e tovo un'armatura marco non mi fa aprire le fornaci ok quella sì questa non me la fa aprire neanche questo chiedito il carbone direttamente a me dai 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 anche ferro va ok e uno c'è è marco quello che sta salendo guarda sì e tanto nessuno ci può ma erano gli altri le possono fottere ma una cosa le si possono fare gli archi e ritrovare le spalle vai giù e trovere string vai letro le cerco è proprio nei frecce non ho le frecce vabbè magari poi trovo con c'era c'è la marco marco sali non fai tipo una specie di scala se ce la fai sì marco metti di qua salita qua sopra ma aspetta facciamo una scala se riusciamo no mamma mia peppe io faccio l'armatura sti cazzo ma è una non inventare la spada c'è legge a tutti gli altri qualcosa ma tutto e pesa di su per andare a cercare le stringhe un piccolo e allora aspetta un attimo crescendo devi aspettare un attimo c'è una cosa è ma marco marco mi la distingue la propria strada la grava no vero no vera graia non ci arrivo se no se vado a cercare sempre ancora cercare la grava ricerca la grava perché per fare gli accendini e ma non abbiamo abbastanza ferro ci manca un pezzo di ferro puro ma ne sa che grave ma non c'è non c'è ricercare la gravel hanno trovato ha trovato è però devi scendere giù a prendere un altro pezzo di ferro non aspetta sono aperto qua ma aspetta cennino per cosa ti serve per fare per bruciare nemici accennati metti dice vai perché ne ho preso un bel po preso 11 pezzi dopo il suo lavoro ragazzi non c'è faccio il peccone io sto scendendo ho trovato altra verità ma venite sopra l'albero per il dato ragazzo prendendo sto prendendo le cose ci siamo loro ma no peppe non è meglio vieni qua vieni qua stai fermo stai fermo stai fermo sto qua 1 2 3 4 marco dove sei marco marco girati girati sto qua ok qua c'è della grave la aiutami a spaccarla qua c'è la in mano serve la palla no ok o un'altra un'altra o possiamo invece sai che possiamo fare facciamo questo il pillar con le torce io ce la tieniti ragazzi serve una torcia ok torcia blocco ok griffer un attimo spazio ancora questo qui si è barricato sopra qui in love un coglione griffer dove sei io sono qua mi vedi sì perché sto facendo acqua le cose quella ma te ne è uscita 1 ok buona sono già due centinaia ci serve ci serve solo il ferro è tutto giù il muro sono caduti i muri dai andiamo e allora niente e vabbè pepe no pepe pepe stai fermo che è e vengono loro da noi scusa camperiamo eh per te deve prendere da mangiare chi è che è marco nessuno giù è marco siamo uniti ora si perde da mangiare ora si è guarda li vedi li vedi quei verdi che stanno ma cazzo ma di che si è diverso e noi c'è ma sviluppo io sono hub no questo qua c'è l'arma incantata il cazzo è oh è che a me sono morto 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 non lo so non lo so a tutti ma no sono proprio io amati tutti io che culo non si può vedere come che fine che cosa fai giudici per marchio e cookie molly con lì c'era tutto incantato è morto sì che puoi vedere come la giusta è più spiegata la busta è più che sul player marco stox qua ok sono venenato ma cosa di su sai su che c'era ci sono un sacco di armature e devo buttare le cose c'è un sacco di cosi ciò è una busta fatale da un'altra parte se no continua a prenderle poi con calma perché tanto ti stiamo controllando noi dietro c'è un bordale di roba incantata minchia ma quante cose ciò per 24 e sta arrivando no stanno arrivando due no 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 ma io voglio vedere dov'è quel figlio di tutt'ora se guarda due diamante dove si mette no ok ma cavallo non ce l'hai per cavallo guarda che mongolo quello dei nostri guarda che mongolo ragazze visate mi sta col culo ti consiglio shift arti st'arrivando è arrivato stanno arrivando in due non c'è una spada devi si stanno a scendere ragazzi no stanno a prendere quello sopra blu e' un bongoloide e conviene uscire prenderli da dietro ma poi non dipendere c'è un bel esercito di date porto pesca prendere da dietro dai che non ti stanno guardando no 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 ieri riguardano uscama l'altro nostro legge morto no hai morto dal fuoco ho una spada di ferro ancora è vivo perché prima non ce l'avevi la spada di ferro no pro incantata ma e sopra guarda che c'è un arco l'hai visto l'arco l'hai già preso un arco guarda che ci sono le armature marco stanno venendo stanno venendo in quattro sei morto ma che mi hai visi con gole coglioni di merda muori bastardo muori 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 no no ancora ma un culo manneggio vabbè ma è un rificio ammazzati quattro ammazzati quanti ammazzati chi è uno come ne ho una due no io ho fatto pure una kill io ho una assist uno eh tu uno e pepe uno io ho 0 kill e due assist no va bene ok ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto penso in futuro ce ne saranno altri sì sicuramente faremo altri un'altra puntata di questo minecraft random sì appunto molto molto random molto random ma ragazzi io vi saluto ragazzi da playerspace marco stox griffer e il pepe è tutto ciao ciao mi raccomando passate al canale dei playerspace ragazzi passate ovviamente al canale di eldrek ovviamente che trovate qui sotto in descrizione e ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao